Chi sei? Nessuno. Mi hanno addestrato a un'unica cosa. Ma non ho niente per cui combattere. Niente ci fermerà. Io finirò... ciò che ha iniziato. Grande attesa per l'uscita al cinema dell'ultimo capitolo di Star War, il risveglio della forza, nelle sale, dal 16 dicembre prossimo. A Cremona la prevendita è già partita e i primi dati sono impressionanti. Le prevendite sono già partite da oltre un mese, quasi un mese, a livello nazionale. Anche qua da noi sono andate molto bene, stanno andando molto bene. Si possono ancora fare, ovviamente. Parte il 16 dicembre. Noi abbiamo già venduto circa 150 biglietti e abbiamo fatto 500 prenotazioni già fatte. Su un numero limitato di proiezioni, perché comunque abbiamo solo fatto le proiezioni serali, cioè di due spettacoli serali. Ovviamente sarà ampliato, perché la richiesta è questa, ci saranno proiezioni al pomeriggio. Anzi, approfitto il 16, apriremo anche al pomeriggio, quindi ci saranno proiezioni pomeridiane. Ci stanno martellando la distribuzione per fare in modo che tutto sia perfetto, anche riguardo all'acustica, la visione, la posizione della sala. Loro ci tengono molto, questo sarà l'evento di fine anno e se lo propongono poi per tutto l'anno. Allora, sicuramente rimarrà per tutte le vacanze natalizie e ovviamente ci sarà una continua età anche nel mese di gennaio. Sicuramente fino al 10 di gennaio sarà in programmazione.